e adesso torniamo sulle frequenze di blade pacco perché da tempo abbiamo potuto apprezzare la qualità dei prodotti acta non verba come questo z100 che avete appena sentito scattare sui suoi cuscinetti a sfera questo ve lo lascio in descrizione trovate anche la recensione completa sulla pagina del prodotto su backpack.it ma oggi si parla di altro oggi si parla di innovazione nelle forme e nel design perché di coltelli fatti in questo modo magari non tutti performanti non tutti bellissimi come lo z100 bene abbiamo comunque visti diversi ne conosciamo diversi ci sono aziende però che si concentrano un po di più ogni tanto sul design e tirano fuori un po delle evoluzioni interessanti lo z070 neo è sicuramente uno di questi casi dicevo acta non verba quindi beh quindi la qualità della lama la qualità del progetto non ve la devo raccontare io è un coltellino eccezionale da chiuso lo 070 si presenta così niente clip completamente minimale non troppi contrasti anche se abbiamo già un primo contrasto sulla finitura del materiale della manicatura non so se riuscite a notarlo ma qui è lucido e questa forma molto affusolata gentile del coltello che vedremo poi lo renderà perfetto per tutte le situazioni in cui vi serve un coltello e magari non vorrete interrompere la riunione con un rumore di questo tipo ok è molto importante quando portiamo dei coltelli quando decidiamo di estrarre usare dei coltelli in mezzo ad altre persone è molto importante anche rispettare la loro sensibilità senza fargli perdere diversi anni di vita in spaventi inutili quindi date le forme gentili dello 070 non intimorisce durante l'uso non intimorisce durante l'estrazione cheppure è controllata in questo modo vedete come anche il gesto è un gesto gentile la chiusura si fa così e si rimette dietro e vi troverete a giocarci spesso ci si prende un po la mano e poi si continua a fare questa cosa senza senso a ripetizione durante le telefonate durante le giornate è fantastico vi dà proprio una bella sensazione in mano merito anche di sicuro del glass reinforced nylon polymer e quindi un nylon rinforzato con fibra di vetro per la manicatura e devo dire eccezionale l'idea di questa doppia finitura perché qui c'è un grip utile alla presa del coltello ma qui c'è un grip comodissimo indispensabile perché aderisce proprio il dito con tutte le sue impronte digitali il polpastrello si incolla qui e vi permette un uso del coltello molto controllato e sicuro è davvero ergonomico davvero piacevole da stringere in mano da utilizzare attenzione non ha un blocco lama è davvero semplice aprirlo e richiuderlo ma non ha un blocco lama e anche se non ha un blocco lama è possibile utilizzarlo con la presa avanzata in questa specie di finger choil è possibile perché effettivamente ci permette di bloccare la rama con l'altro dito e comunque nel momento in cui andiamo ad utilizzare in questo modo la forza è positiva sulla lama del coltello pesa soli 65 grammi e la lama è in acciaio svedese sleipner trattata con tempra criogenica rivestita in un liscissimo e piacevolissimo dlc cioè diamond like carbon ora significa carbonio duro come il diamante non starò a spiegarvi com'è questo rivestimento ma i coltelli acta non verba sono proprio piacevoli al tatto basta il colore della manicatura è questo verde menta mint green questo rosa che dovrebbe essere rose pink se non sbaglio è il black il nero fantastiche colorazioni si adattano davvero a tutti i gusti a tutte le necessità la lunghezza totale dello 070 è di 155 mm di cui 55 di lama e lo spessore della lama è di 3 mm e non ci resta che provarlo ecco qui il nostro test vabbè come al solito acta non verba cos'altro vi potevo dire di questo coltellino coltellino elegante coltellino moderno coltellino adatto davvero ad ogni occasione se vi piacciono questi coltelli moderni date un'occhiata anche al chioto di boker appena arrivato e anche lui rientra un po in questa idea di coltelli beh gentleman per uso civile per uso di tutti i giorni che non vogliono spaventare gli altri ma vogliono darci anche un diciamo un ritorno emozionale in termini di design e di bellezza dell'oggetto stesso in termini di design e di bellezza dell'oggetto 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 dell'